Per chi non avesse visto la prima parte del video invito a visionarlo. Si intitola Le profezie di Malachia reperibile anche sul mio canale YouTube Costa 29, 07, 68. Facendovi un breve riassunto intorno al 1140 il vescovo irlandese Malachia profetizzò le successioni patali, sino al tempo in cui Pietro sarebbe ritornato sulla terra per riprendere le chiavi della Chiesa, furono pubblicate per la prima volta dal benedettino Don Marnotbion nel 1595 nel suo libro Lignum Vite. Quello che è strano è che, finora, la stragrande maggioranza di queste profezie si è avverata. Le profezie di Malachia si riferiscono per lo più al luogo di provenienza dei pontifici, allo stemma della famiglia o anche a eventi storici che caratterizzeranno il suo pontificato. Esse sono costituite da 111 motti latini che descrivono in maniera impressionante i 111 papi che si sarebbero vicendati sul trono di Pietro dal 1143 fino alla fine dei tempi. Ecco l'elenco dei papi corredato di foto con i relativo motti profetici. Buona visione. 1 Ex Castro Tiberi Celestino Ili, 1143-1144 Il motto sembra alludere al paesino di origine di questo papa. Nacque a città di Castello sul Tevere. 2 Inimicus Expulsus Lucio Ili Caccianemici, 1144-1145 Il motto potrebbe avere due spiegazioni. L'allusione al cognome, inimicus, è la brutale fine di questo papa, che morì colpito da una pietra mentre veniva espulso dal Campidoglio. 3 Ex Magnitude Montis Beato Eugenio Ili, 1145-1153 Pietro Pignatelli, nativo di Montemagno, Pisa, racchiude nel paese di origine il significato del motto. 4 Bassa Suburranus Anastasio Ivi, 1153-1154 Corrado Suburri fu abate di esse Rudo 5 Veruro Albo Adriano Ivi, 1154-1159 Nicolas Breakspear fu il solo papa nato in Inghilterra, a Sena Albani. Il motto deriverebbe dalla città di nascita. 6 Ex Tetro Carcere Antipapa Vittore Ivi Gregorio Conti era cardinale di S. Vittore, noto carcere milanese. 7 Ex Ansere Custode Alessandro Ivi, 1159-1181 Rolando Papero Bandinelli Probabilmente il motto fa riferimento al cognome del pontefice, che si oppose duramente al Barbarossa, in quanto Ansere in latino significa Anatra. 8 De Via Trans-Tibertina Antipapa Pasquale Ivi, guido da crema ricoprì la ruolo di cardinale in esse, Maria Intrastevere, Trans-Tibertina. 9 Luxinostio Lucio Ivi, 1181-1185 Ubaldo Allucignoli fu cardinale di Ostia. Nel motto appare chiaro il riferimento sia al nome papale, sia al cognome di origine, sia alla cittadina di Ostia. 10 De Pannonia Tusciae Antipapa Callisto Ivi Cardinale di Tuscolo, proveniva dall'Ungheria, che anticamente faceva parte di una vasta regione denominata Pannonia. 11 Sus in Cribo Urbano Ivi, 1185-1187 Uberto Crivelli aveva nel proprio stemma l'immagine di un maiale, Sus. La parola Cribo, inoltre, sembra alludere in qualche modo al cognome Crivelli, 12 Ensis Laurenti Ivi, 1187 Alberto Mosca era cardinale di S. Lorenzo in Lucina. Nel suo stemma campeggia una spada, Ensis 13 De Scola Exiette Clemente Ivi, 1187-1191 Paolo Scolari, bescovo di Palestrina. Il riferimento al cognome è evidente. 14 De Rure Bovense Celestino Ivi, 1191-1198 Giacinto Orsini della Casata dei Borbone 15 Comes Signatus Innocenzo Ivi, 1198-1216 Giovanni Loterio dei Conti di Tuscolo da Segni 16 Canonicus De Latere Onorio Ivi, 1216-1227 Cencio Savelli, canonico in laterano 17 Avis Ostiensis Gregorio Ivi, 1227-1241 Ugolino dei Conti di Tuscolo da Segni, cardinale di Ostia Nel suo stemma appare un'aquila, Avis 18 Leo Sabinus Celestino Ivi, 1241 Goffredo Castiglione di Milano Bescovo di Sabina Anche in questo caso nello stemma c'è un leone 19 Comes Laurentius Innocenzo IV, 1242-1254 Sinibaldo dei Conti Fieschi, già cardinale di S Lorenzo in Lucina 20 Signus Ostiense Alessandro Ivi, 1254-1261 Rinaldo dei Conti di Segni, cardinale di Ostia 21 Jerusalem Campania Urbano Ivi, 1261-1264 Giacomo Troia e Spantaleone, nativo della Champagne e patriarca di Gerusalemme, eletto papa ancora prima di essere nominato cardinale 22 Drago Depressus Clemente Ivi, 1261-1264 Guido le Grosse di Saint-Gilles Nel suo stemma V è un'aquila che tiene stretta tra gli artigli un grosso drago 23 Anguineus Vire Gregorio X, 1271-1276 Teobaldo dei Visconti di Piacenza Malachia lo indica come uomo del serpente Anguineus Vire, perché nel suo stemma campeggia in evidenza un serpente 24 Concionator Gallus Innocenzo V, 1276 Pietro di Parantasia, di origine francese, Gallus, malgrado i soli cinque mesi di pontificato è unanimamente ricordato come uomo di chiesa Provo ed eccellente predicatore, Concionator 25 Bonus Comes Adriano V, 1276 8 Bono dei Conti Fieschi Morì prima di essere incoronato papa Bonus da 8 Bono 26 Piscator Tuscus Giovanni XX, 1276-1277 Pietro di Giuliani, famoso medico e filosofo, cardinale di Tuscolo Il suo nome di battesimo era quello del famoso pescatore, primo papa della Chiesa Cattolica 27 Rosa Composita Niccolò I, 1277-1280 Nello stemma di Gian Gaetano Corsini appariva una rosa Egli fu poi soprannominato Compositus perché nel corso del suo pontificato si impegnò soprattutto nel tentare di riunire la Chiesa Latina e quella greca 28 Ex Telonio Liliace e Martini Martino IV, 1281-1285 Simone de Brie, canonico e tesoriere di San Martino di Tursini in Francia Nel suo stemma di erano rappresentati alcuni gigli 29 Ex Rosa Leonina Onorio IV, 1285-1287 Jacopo Sabelli aveva come stemma dei leoni attorniati da rose 30 Picus in Teresca Niccolò IV, 1288-1292 Il moto relativo a Gerolamo di Ascoli Piceno non è ben chiaro L'unico accenno plausibile potrebbe essere quello alla città natale, Picus 31 Ex Eremo Celsus Celestino V, 1294 Pietro Anglerio da Morrone fu ermita e fondatore dell'Ordine dei Celestini 32 Ex Undarum Benediczione Bonifacio V, 1294-1303 Benedetto Caetani Il moto si riferisce al suo nome di battesimo e dal suo stemma nel quale figurano delle onde marine 33 Concionator Patarens Benedetto XI, 1303-1304 Niccolò Baccasini Er nato a Patarens Apparteneva all'Ordine dei Predicatori Concionator 34 De Fascis Aquitanicis Clemente V, 1305-1314 Lo stemma di Bertrande Gott è costituito da fasce parallele Sotto il suo pontificato avvenne il trasferimento della sede papale da Roma ad Avignone, vicino alla Quitania 35 De Sutore Orseo Giovanni XI, 1316-1334 Giacomo Duese era figlio di un umile calzolaio 36 Corbus Schismaticus Antipapa Niccolò B. Pietro Rinalducci Originario di Corvaro Fu tra i maggiori responsabili dello scisma d'Occidente 37 Frigidus Abbas Benedetto XI, 1334-1342 Giacomo Fournier, fu eletto Papa mentre era abate presso il monastero di Fontana Fredda 38 Ex Rosa Trebatesi Clemente V, 1342-1352 Pietro Roger di Beaufort fu vescovo di Arras ed aveva un emblema con sei rose 39 De Montibus Pammachie Innocenzo V, 1352-1362 Nell'emblema di Stefano Ober campeggiano sei montagne Egli fu eletto Papa mentre era cardinale dei Santi Giovanni e Paolo, titolo anticamente soprannominato Pammachio 40 Gallus Vice Comes Urbano V, 1362-1370 Guglielmo Grimoard, francese, Gallus, fu nunzio, Comes, presso i Visconti di Milano 41 Nobus de Virgine Forti Gregorio XI, 1370-1378 Nipote di Clemente V, Ruggero di Beaufort fu cardinale di Santa Maria Nuova, virgine 42 De Cruce Apostolica Antipapa Clemente V, cardinale dei dodici apostoli Il suo emblema raffigurava una grossa croce 43 Luna Cosmedina Antipapa Benedetto XI, Pietro de Luna, fu eletto Papa mentre ricopriva il titolo di cardinale di Santa Maria in Cosmedina 44 Schismo Barcinonicum Antipapa Clemente V, canonico di Barcellona, Barcinonicum, fu fautore di una politica volta a consolidare lo scisma 45 De Inferno Pregnani Urbano V, 1378-1389 Bartolomeo Pregnano, napoletano, nacque in una località denominata Inferno 46 Cubus de Mixtione Bonnifacio V, 1389-1404 Lo stemma di Pietro Tommacelli era costituito da Cudi 47 De Migliore Sidere Innocenzo V, 1404-1406 Il motto si riferisce al cognome di Cosma Migliorati e dal suo stemma recante una stella 48 Nauta di Ponte Nigro Gregorio XI L'espressione Nauta, marinaio barcaiolo, viene usata da Malachia per disegnare i papi che provenivano dalla città di Venezia Angelo Corrieri infatti era nato a Venezia ed era stato cardinale commendatario di Negroponte 49 Flagellum Solis Antipapa Alessandro di Pietro Filargiro aveva uno stemma in cui campeggiava un sole splendente Malachia lo indica come Flagellum perché contribuì ad aggravare e radicalizzare lo scisma del papato 50 Cervus Sirenae Antipapa Giovanni XXIII Baldassarre Cossa era nato a Napoli, città il cui emblema è rappresentato dalla sirena Partenope, ed aveva nello stemma l'immagine di un cervo 51 Corona veliaurei Martino V, 1417-1431 L'emblema di Ottone Colonna era una corona dorata 52 Lupa Coelestina Eugenio IV, 1431-1447 Il simbolo di Gabriele Condolmer, canonico della Compagnia dei Celestini, era una lupa 53 Amator Crucis Antipapa Felice V, lo stemma di casa Savpia di cui Emedeo VI era principe e una croce rossa su campo bianco L'espressione Amator si riferisce probabilmente al tormento interiore e dalle accese controversie che accompagnarono questo Papa in tutto l'arco del suo antipontificato 54 De Modicitate Lunae Niccolò D, 1447-1455 Tommaso Parentuccelli era nato a Luni di Sarzana ed apparteneva ad una famiglia molto povera, Modicitate 55 Boss Passions Callisto II, 1455-1458 Nello stemma di Alfonso De Borgia compare un bue al pascolo 56 De Capra e Italbergo Pio II, 1458-1464 Enea Silvio Piccolomini fu segretario dei Cardinali Capranica e Albergatti 57 De Cervo et Leone Paolo II, 1464-1471 Pietro Barbo era stato cardinale di San Marco Evangelista, che ha per simbolo un leone alato, è commendatario della chiesa di Cervia 58 Piscator Minorita Sisto IV, 1471-1484 Francescano degli Ordini Minori, Francesco della Rodere era figlio di un umile pescatore 59 Prae Cursor Siciliane Innocenzo VI, 1484-1492 Giovanni Battista Cibo visse alla corte della re di Sicilia 60 Boss Albanus in Porto Alessandro VI, 1492-1503 L'emblema di Rodrigo Borgia era un bue Egli fu cardinale e vescovo di Albano e Porto 61 De Parvo Omine Pio II, 1503 Francesco Todeschi Il motto farebbe riferimento al cognome materno Piccolomini 62 Fructus Iodis Iuvabit Giulio II, 1503-1513 L'emblema di Giuliano della Rodere era una quercia che nell'antichità veniva ritenuta albero sacro a Giove 63 De Craticule Politiana Leone X, 1513-1521 Il nome del padre di Giovanni de' Medici era Lorenzo, santo martirizzato sulla graticola L'espressione politiana deriverebbe invece da Angelo Poliziano di cui egli fu discepolo 64 Leo Florentius Adriano V, 1522-1523 Adriano Florenz di Utrecht L'ultimo papa non italiano prima di Voitila Aveva come stemma un leone 65 Flospila Clemente V, 1523-1534 Giulio de' Medici, Fiorentino Aveva nel proprio stemma una palla attorniata da Gigli 66 Acintus Medicorum Paolo II, 1534-1549 Alessandro Farnese, cardinale dei SS Cosma e Damiano Aveva Gigli nel suo stemma 67 De' Corone Montana Giulio II, 1550-1555 Giovanni Maria Ciocchi del Monte Il suo emblema raffigurava due corone 68 Frumentum Flucidum Marcello II, 1555 Marcello Cervini Nacque a Montepulciano Il suo stemma raffigura un cervo e del frumento Qui l'aggettivo Flucidum sta ad intendere la breve durata del suo pontificato di solo 23 giorni Egli fu l'ultimo Papa a non cambiare nome all'atto dell'elezione Egli così confermò un'altra leggenda, la quale vuole un pontificato brevissimo per i Papi che conservano il proprio nome 69 De' Fide Petri Paolo IV, 1555-1559 Gian Pietro Carafa fu promotore del Tribunale della Fede Il Petri ricorda la pietra su cui fu fondata la Chiesa 70 Esculapii Pharmacum Pio IV, 1559-1565 Giovanni Angelo dei Medici Il motto sembra derivare dal cognome della casata Esculapio, infatti, era considerato il dio della medicina e primo medico della storia 71 Angelus Nemorosus Pio V, 1566-1572 L'aggettivo Nemorosus, boscoso, starebbe ad indicare il luogo di nascita, bosco in provincia di Alessandria, di Michele Ghisleri 72 Medium Corpus Pilarum Gregorio Xi, 1572-1585 Ugo buon compagni, passato alla storia come l'ideatore del calendario gregoriano, aveva nello stemma un mezzo drago e due sfere 73 Axis in medietate signi Sisto V, 1585-1590 Felice Perretti aveva come stemma un leone diviso a metà da un'ascia 74 Deroricelli Urbano V, 1590 Il motto potrebbe derivare dal fatto che Giovan Battista Castagna fu arcivescovo di Rossano, cittadina nella quale tradizione si dice fosse caduta la manna dal cielo 75 De Antiquitate Urbis Gregorio Xi V, 1590-1591 Nicola Sfrondati proveniva dall'antica cittadina di Cremona Ma sarà davvero questo che Malachia intendeva? 76 Pia Civita Simbello Innocenzo I, 1591 Il motto sembra indicare il ruolo di sostegno del suo pontificato in un periodo storico caratterizzato da cruente guerre 77 Crux Romulea Clemente V, 1592-1605 Ippolito Aldo Brandini apparteneva ad una nota famiglia originaria di Roma ma da tempo radicatasi a Firenze Nel suo stemma campeggia una croce romana 78 Undosus Dir Leone XI, 1605 Il motto si riferisce probabilmente alla brevissima durata del suo pontificato, ma è solo un'ipotesi 79 Gens perversa Paolo V, 1605-1621 Camillo Borghese pare avesse cambiato, perversum, il suo cognome, Gens, da laico 80 Intribulazione Pacis Gregorio X V, 1621-1623 Alessandro Ludovisi, istitutore della propaganda FIDE, nel corso di tutto il suo pontificato fu faticosamente impegnato a sedare guerre e controversie politiche 81 Lilium Etrosa Urbano V, 1623-1644 Lo stemma di Maffeo Barberini era animato da piche volano su giglie rose 82 Iacunditas Crucis Innocenzo X, 1644-1655 Giovanni Battista Panfili fu proclamato Papa nel giorno dell'esaltazione della croce 83 Montium Custus Alessandro V, 1655-1667 Lo stemma di Fabio Chigi era costituito da tre colline su campeggiava una stella Questo Papa istituì nella capitale un monte di pietà 84 Sidus Olorum Clemente X, 1667-1669 L'elezione di Giulio Rospigliosi avvenne nella Camera dei Cigni Olorum 85 De Flumine Magno Clemente X, 1670-1676 Emilio Altieri fu eletto Papa in un giorno in cui il fiume Tevere era in piena Flumine Magno 86 Bello e Insatiabilis Innocenzo XI, 1676-1689 Benedetto De Scalchi aveva nello stemma un'aquila e un leone 87 Poenitentia Gloriosa Alessandro V, 1689-1691 L'elezione di Pietro Ottobuoni avvenne nel giorno di San Brunone, santo ricordato per essere stato uno dei più grandi penitenti della Chiesa Cattolica. Però si tratta di un legame troppo labile. 88 Rastrum Importa Innocenzo XI, 1691-1700 Antonio Pignatelli apparteneva all'omonima illustre casata napoletana che risiedeva presso una porta della città soprannominata del Rastrello. 89 Flores circundati Clemente XI, 1700-1721 1721 Giovanni Francesco Albani aveva uno stemma incorniciato da fiori. 90 De Buona Religione Innocenzo XI, 1721-1724 Michelangelo Conti, condannò aspramente ogni forma di eresia ed in particolare giansenismo e quietismo. 91 Miles Imbello Benedetto XI, 1724-1730 Pier Francesco Orsini L'epoca del suo pontificato fu caratterizzata da aspre guerre di successione. 92 Columna Excelsa Clemente XI, 1730-1740 Lorenzo Corsini è ricordato soprattutto per i grandi e lussuosi edifici che fece erigere. 93 Animal Rurale Benedetto XIV, 1740-1758 Prospero Lambertini di Bologna fu uno dei papi più amati della storia, ma non è affatto chiaro a cosa si riferisca a Malachia. Io avanzo un'ipotesi. Prima di entrare nel lunghissimo conclave da cui uscì papa, dichiarò. Se vorranno i leggere un asino, eleggeranno me. Come sempre accade in questi casi, fu tutto fuorché un asino. 94 Rosa Umbiae Clemente XI, 1758-1769 Durante il pontificato di Carlo Rezzonico venne istituito l'ordine francescano che ebbe la sua prima sede in Umbria. 95 Ursus Delux Clemente XIV, 1769-1774 Lorenzo Ganganelli, passato alla storia per aver sciolto l'ordine dei Gesuiti, aveva nel proprio stemma l'immagine di un orso. 96 Peregrinus Apostolicus Pio di 1774-1799 Il motto si spiega con le vicissitudini che questo papa dovette affrontare. Giovanni Angelo Braschi, infatti, dovette recarsi fino a Vienna per tentare di convincere l'imperatore Giuseppe Ili ad abrogare delle misure anticlericali da lui adottate sotto l'influsso dei filosofi illuministi. Poi, scoppiata la rivoluzione francese, fu fatto prigioniero dai napoleonici e condotto da questi prima a Siena, poi a Bologna ed infine a Parma. Morì in esilio, solo ed odiato, a Valence, nel Drome. Pio di adultimo, scrisse lo sprezzante gendarme Giacobino che ne constatò il decesso. Grazie a Dio era in errore. 97 Aquila Rapax Pio VII, 1800-1823 Gregorio Barnaba discendente dei Conti Chiaramonti fu fatto prigioniero da Napoleone Bonaparte il 3 luglio 1809, ed è portato a Fointaneblau, presso Parigi, anche a causa del fatto che egli si era rifiutato di avvallare il divorzio tra l'Empereur e Giuseppina Beuarnais. In questo caso l'Aquila Rapace starebbe ad indicare lo stemma napoleonico, su cui campeggiava proprio un'Aquila. 98 Canis et Coluber Leone XII, 1823-1829 Annibale della Genga fu definito dai suoi collaboratori fedele alla causa della Chiesa come il cane e dallo stesso tempo prudente nei suoi attacchi come un serpente. Ma forse l'attribuzione a posteriori, cioè derivata direttamente dall'epiteto di Malachia. 99 Vir Religiosus Pio VI, 1823-1830 Il misticismo è stato una delle maggiori caratteristiche del pontificato di Francesco Saverio dei Castiglioni. Ma basterà. Proprio la vaghezza di molte tra le profezie di Malachia è usata come argomento da chi nega ogni autenticità a questa lista e, almeno in questo caso e nel precedente, sembra aver ragione. 100 De Balneis Etruria e Gregorio XVI, 1831-1846 Bartolomeo Alberto Cappellari era stato generale dell'Ordine dei Camaldolesi, ordine nato in terra di Etruria, nella regione il cui nome romano era Balnea, essendo ricca di acque termali. 101 Crux de Cruce Pio X, 1846-1878 Durante il pontificato di Giovanni Maria Mastai Ferretti, il più lungo di tutta la storia, Roma divenne capitale dell'Italia Unita. Lo stemma della dinastia Sabauda, come tutti sanno, è una croce bianca in campo rosso. Sulla città di Roma la croce papale si sovrappose quella Sabauda. 102 Lumende Coelho Leone XIII, 1878-1903 L'emblema di Gioacchino Pecci era una stella cometa sullo sfondo del cielo. 103 Ignis Ardens Pio X, 1903-1914 Per la sua bontà e la sua ardente fede, Giuseppe Sarto fu proclamato santo. Si potrebbe anche ricordare con quanto zelo egli combatte il modernismo. 104 Religio De Populata Benedetto XV, 1914-1922 Il pontificato di Giacomo della Chiesa fu funestato dagli avvenimenti della Grande Guerra e dai numerosi lutti che ne conseguirono. Il motto sembra riferirsi all'enorme numero di cattolici che caddero sul fronte di guerra, ma potrebbe esserci anche un accenno alla terribile epidemia di Spagnola, che fece ancora più vittime partendo proprio dalla Spagna, un paese cattolico. 105 Fides Intrepida Pio XI, 1922-1939 La fede di Achille Ratti, nativo di Desio, lo indusse a lanciare coraggiosi anatemi contro il comunismo e soprattutto contro il fascismo ed il nazismo rampante, e enciclica Mitt Brenner sorge, con ardente preoccupazione. 106 Pastor Angelicus Pio XI, 1939-1958 Eugenio Pacelli fu pastore della Chiesa nel corso della Seconda Guerra Mondiale e nel difficile periodo della ricostruzione post-bellica. A lui toccò il compito di essere la guida spirituale e materiale di un mondo che si preparava a risorgere dalla ceneri della guerra. A Papa Pio XI tra l'altro fu dedicato un film che portava come titolo proprio Pastor Angelicus. 107 Pastor Etnauta Giovanni XXIII, 1958-1963 Re Angelo Roncalli era di umili origini, pastor, fu patriarca di Venezia, Nauta, e traghettò la Chiesa nel mare ignoto della modernità attraverso il Concilio Vaticano I.I. Una curiosità. Tra i papabili del conclave del 1958 c'era il cardinale Franco-Armeno Agagianlan, il quale sullo stemma aveva un pastore e un ancora. Se fosse stato eletto lui, la profezia si sarebbe realizzata davvero in modo clamoroso. 108 Flos Florum Paolo VI, 1963-1978 Flos Florum, cioè fiore dei fiori, secondo il simbolismo floreale e il giglio. Nello stemma di Giovanni Battista Montini appaiono di fatti tre gigli. 109 De Medietate Lunae Giovanni Paolo I, 1978 Il pontificato di Albino Luciani, già patriarca di Venezia, è definito il tempo di una luna con riferimento al mese lunare. Infatti il suo pontificato durò dal 26 agosto al 28 settembre 1978. Solo 33 giorni. Alcuni però hanno contestato questa attribuzione, essendo la durata di mezzo mese lunare di soli 14 giorni. Forse il Medietate del motto va invece inteso come mediazione, nel senso di un pontificato di transizione data la sua brevità. Anche il nome al secolo del pontificato dà adito a suggestive speculazioni, alludendo a luce albina, cioè bianca, ovvero al pallido candore della luna. 110 De Labore Solis Giovanni Paolo I, 1978 2005 Karol Wojtyla verrà ricordato come il Papa Polacco, e molto probabilmente Malachia si riferisce al fatto che egli proviene da un paese dell'est, Levante del Sole. Ma c'è anche chi ha appuntato l'attenzione sull'enorme lavoro di diffusione della fede intrapreso durante il suo pontificato. Egli è il Papa che in assoluto ha visitato più paesi del mondo, ed ha portato la Chiesa a possedere un regno su cui sembra non tramontare mai il Sole. Meno probabile appare invece l'interpretazione secondo cui Giovanni Paolo I veniva da quella Cracovia in cui Copernico faticò per dimostrare la validità del suo sistema heliocentrico. 111 De Gloria Oliva e Benedetto XV, 2005 Regnante Il successore di Giovanni Paolo I, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger, viene indicato attraverso il segno dell'ulivo, simbolo di pace. Egli stesso nella sua prima udienza generale del 27 aprile 2005 ha voluto richiamarsi a Benedetto XV, il Papa che tentò in ogni modo di porre fine alla Prima Guerra Mondiale. Egli, ha detto Ratzinger, fu coraggioso e autentico profeta di pace, e si adoperò con estrenuo coraggio dapprima per evitare il dramma della guerra, e poi per limitarne le conseguenze nefaste. Sulle sue orme desiderio porre il mio ministero a servizio della riconciliazione e dell'armonia tra gli uomini e i popoli, profondamente convinto che il grande bene della pace è innanzitutto dono di Dio. Ma, come è stato segnalato, Benedetto XV presenta altre sorprendenti attinenze con il motto di Malachia. Innanzitutto i membri dell'ordine benedettino sono noti anche come olivetani. Ancor più impressionante è il fatto che Ratzinger sia nato nel sabato santo del 1927, il 16 aprile, al culmine del periodo pasquale. Tutto il periodo è, di fatti, sotto il segno dell'ulivo, anche in considerazione del fatto che Gesù e i discepoli risiedettero per tutto il tempo proprio presso il Monte degli Ulivi, dall'ingresso in Gerusalemme fino all'arresto. 112 Petrus Romanus L'ultimo papa prima della fine del mondo Il nome è quanto mai suggestivo. Mentre Pietro i fu il primo pastore della Chiesa Cattolica, detentore delle chiavi del cielo, Pietro i dovrà restituire il mandato e chiudere per sempre le porte del mondo. A quest'ultimo papa che chiude la profezia, Malachia ha voluto dedicare non un solo motto, ma alcuni versi latini. In persecuzione extrema sacrae romanae ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui pasce touvs in multis tribulationibus. Qui bi transactis, civitas septis collis di ruetuo, ed iudextremendus iudicabit populum sum. Amen. La traduzione è la seguente. Durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa, siederà Pietro il romano, che pascerà al suo greggio tra molte tribolazioni. Quando queste saranno terminate, la città dei sette colli sarà distrutta, ed il temibile giudice giudicherà il suo popolo. E così sia. La profezia sulla distruzione di Roma si trova anche in un messaggio trovato nell'XVI secolo e attribuito genericamente al monaco di Padova. In questo messaggio si dice, quando l'uomo salirà sulla luna, grandi cose staranno per maturare sulla terra. Roma verrà abbandonata, come gli uomini abbandonano una vecchia mergera, e del Colosseo non rimarrà che una montagna di pietre avvelenate da demagni tribolationibus et statu ecclesiae, stampate a Venezia nel 1527. Queste profezie, meno conosciute di quelle di Malachia, presentano un vaticinio sulla successione degli ultimi papi. Giovanni XXIII viene qui presentato come uomo di grande umanità e dalla parlata francese. Papa Roncalli rappresentò di fatti per molti anni la chiesa di Roma a Parigi. Con il suo successore iniziano le tribolazioni della chiesa. In questo tempo l'ombra dell'Anticristo inizierà a oscurare la città eterna. Significativo è il messaggio che riguarda Giovanni Paolo I. Passerà rapido come una stella cadente, il pastore della laguna, e infatti Papa Luciani, che veniva da Venezia, ebbe un pontificato di 33 giorni. Giovanni Paolo I. Verrà da lontano e macchierà col suo sangue la pietra, e verrà strappato alla vita. Si prevede quindi una conclusione tragica e violenta del pontificato di Papa Vojtila, che invece ci ha lasciati il 2 aprile 2005 a causa di uno shock settico, che era stato causa anche della morte di Paolo V. Ma bisogna comunque ricordare il suo attentato con sangue versato proprio sulla pietra e la pallottola miracolosamente deviata dalla Santa Vergine, realizzerò un video sull'argomento. Grazie per la vostra attenzione.